Mi chiamo Irena Villar, lavoro per sistema turismo che fa parte della rete europea Education and Training Network che si occupa di progetti di mobilità Erasmus+. Abbiamo il direttore del centro per l'impiego di Hojuf che è venuto qua a Rimini per un progetto di una settimana un progetto proprio Erasmus+, con tutta una delegazione di questa città di Hojuf quindi con lui come direttore del centro per l'impiego ma c'erano anche direttori di scuole anche di centri culturali e più generale di impegno sociale. Hanno scritto quindi questo progetto Erasmus+, questo progetto quindi di una settimana di job shadowing e quindi sono loro che hanno deciso di creare e formare il gruppo così e questa è anche la seconda parte del gruppo perché erano venute anche altre persone prima, nella prima vera scorsa. A Rimini quali altre realtà avete visitato? Che giro avete fatto? Ok, allora stamattina siamo stati al Valturio che le è piaciuto tanto, martedì siamo stati al Giulio Cesare e abbiamo stato anche al Val Gimili, quindi liceo anche economico e linguistico di tutte queste realità qua e poi hanno anche seguito proprio un seminario sul sistema educativo italiano quindi proprio anche sulla riforma buona scuola, alternanza scuola-lavoro anche per capire meglio come è organizzato il sistema scolastico e anche la referenza all'enciclopedia europea che si chiama Euripezia che permette di fare il paragone tra sistemi educativi di diversi paesi. E volevo chiedere al direttore che opinioni ci hai fatto dalla giornata di oggi, da questa visita nella nostra cooperativa? E' sorpreso in modo positivo su cosa ha visto e cosa ha imparato qua perché dice che in Polonia provano di fare delle cari delle cooperative sociali anche per persone che sono disoccupate ma stanno solo iniziando, quindi sono un po' invidiosi anche in questa esperienza di 20 come voi o anche 30 anni. Ho capito. C'è qualcosa in particolare che lo ha colpito? L'ho assorpreso ma in modo anche positivo proprio la legislazione, quindi la legge del 91 che permette non a pezzi ma in modo più globale di pensare proprio alla cooperativa secondo quindi delle categorie e questo sarebbe un buon spunto per usare questo aspetto anche parlando con persone che si occupano di legislazione in Polonia come esempio da sfruttare tutto in Polonia. Quindi praticamente è uno studio che loro stanno facendo anche a partire dalla formazione scolastica, no? Una cultura del mondo del no profit che parte dalla scuola e poi arriva fino alla... Ecco, da questo punto di vista gli puoi chiedere quali spunti ha potuto trovare qui a Rimini. Allora, quindi lui proprio come direttore di centro per l'impiego ovviamente fanno già una cooperazione con le scuole ma gli dice che in generale questo tipo di progetti è bello perché ci permette di avere altri spunti di come va la cultura anche in un altro paese che possono poi sfruttare il loro ritorno in Polonia quindi sì sì sì, quindi sono aspetto di rafforzare anche l'educazione e la cooperazione. Grazie. Grazie.